Nel 39, nella primavera, lui sosteneva che sarebbe scoppiata la guerra, cosa la quale io non credevo, perché ne avevo già vista sia pure da bambina una, non credevo di doverne vedere un'altra. E allora, tutto l'inverno, siamo andati cercando una casa in campagna e finalmente l'abbiamo trovata in vicinanza di Varese. A quell'epoca la biblioteca era già discreta, occupava già varie stanze. Quando abbiamo trovato questa casa nel Varesotto, in un bellissimo giardino, eccetera, l'abbiamo trasportata lì. Subito dopo l'8 settembre non sapevamo bene come stavano le cose. Noi avevamo le carte con due nomi, Rossi e Bianchi, facile. E poi, non carte, ma per tanta gente ci chiamavamo Franceschi e Leonardi, questo me lo ricordo. E poi qualcuno così di fantasia di passaggio. E quindi, per esempio, io che non sono fisionomista come il regista che diceva io ricordo le facce, quando incontravo qualcuno per la strada, non sapevo se mi conosceva come Rossi, come Bianchi, come Franceschi, guarda. È vero che noi non eravamo ebrei, però Neglio era molto conosciuto come antifascista, era molto probabile che lo aspettassero una sorte di questo genere. Allora, per prima cosa, abbiamo sgombrato la casa. Un primo tempo abbiamo mandato i bambini in casa di amici, e i bambini e alcuni tomi della biblioteca. E in un secondo tempo poi mi sono trasferita io con i bambini in una casa di Lanzo d'Intelvi, sempre di amici. A quell'epoca, il legno non dormiva più, si era nascosto anche lui, era clandestino anche lui. E lui dormiva a Milano in casa di amici, e io ero a Lanzo d'Intelvi con i bambini. E gli è venuta in mente una certa opera che bisognava salvare ad ogni costo. Allora ha preso il trenino della Nord e è andato su. Quando è stato lì ha visto che c'era dell'acqua calda, allora ha detto faccio un bagno, e ha fatto il bagno. Poi è uscito, si è fermato a prendere il caffè della signora del medico che era lì vicino. E quando è uscito dalla signora del medico, erano le nove, le dieci del mattino, in questa strada piccolissima, ha incrociato due macchine delle SS. E allora con un lampo di genio ha detto questi sono per me. Allora lui è andato avanti verso la stazione. E le SS si sono fermate ai cancelli. E questo, lasciami fare un inciso di ringraziamento al paese. Era più di mezz'ora che le SS ci cercavano. Ora lì erano quattro anni che noi stavamo, tutti sapevano dove abitavamo. Non c'è stato uno che abbia detto sta là. Il massimo della buona fortuna è stato che perfino la tabaccaia, che era al di là della ferrovia, ha detto ah io non lo so, vengono qui a prendere il giornale ma dove stanno non lo so. Tanto sono calate le sbarre. Quindi hanno perso ancora 5 o 6 minuti, che hanno permesso al legno di prendere il caffè, di uscire e di essere in strada quando loro sono arrivati. E degli ha continuato, più che prendere il treno non poteva fare, sempre terrorizzato dall'idea che qualcuno gli dicesse ma guardate è quello là, perché si vedeva dalla casa, si vedeva la stazione. Allora lui è rimasto lì alla stazione ad aspettare il treno dando le spalle alla casa, guardando un giornale. E intanto un mio compagno di scuola, un certo avvocato russi, invece voltato dall'altra parte, gli dava il resoconto della partita. Hanno aperto il cancello, stanno sfondando la porta, aprono le finestre. Finalmente in treno è arrivato, lui si è imbarcato ed è corso subito su a Lanza a vedere se erano arrivati da noi. E poi siamo scappati, anche da lì, la mattina. Noi non ci muovavamo, se non con i tre bambini e con un certo numero di volumi, insomma, non li abbiamo mai lasciati incostuditi, per esempio la Voa di Peupla. E allora, come dicevo, avevamo i due bambini grandi, avevano le loro biciclettine, il piccolo stava sulla canna della bicicletta dell'Elio, me lo portavo io. e poi ci avevamo il pacco dei libri. Conoscevo bene i dirigenti socialisti che abitavano a Milano, in modo particolare Turati, Treves, che erano degli sconfitti, era gente appunto che non sapeva far altro che pensare di aspettare un domani che la tempesta sarebbe passata da sole. Direi che in quell'ambiente forse la persona che portava una maggiore vivacità era ancora Anna Kulishoff. Viceversa, fuori da quell'ambiente c'erano delle personalità, come Rosselli, come a certa misura Pietro Nenni, ma direi soprattutto come esempio per tutti Salvemini, che fu l'iniziatore e il fondatore del primo giornale clandestino d'Italia, il Non Mollare, che noi ricevevamo regolarmente a Milano. Veniva portata a Milano alla serie del partito unitario a Via della Signora, da dove veniva ritirato da una squadra gli studenti che io come presidente degli studenti antifascisti avevo formato. Noi andavamo là, quando sapevamo che era arrivato, ne prendevamo ciascuno un po', passavamo in mezzo a Carabinieri che erano davanti alla sezione socialista e poi distribuivamo. Ogni giorno, ogni volta, non ogni giorno, ma ogni volta che avevamo un numero di Non Mollare, era veramente per noi un'iniezione di fiducia, non di fiducia nei risultati immediati, forse in Salvemini c'era un po' anche questo, forse c'era un momento di ottimismo eccessivo, ma la fiducia nel fatto che si può sempre lottare, che in qualunque condizione c'è sempre una possibilità di farsi sentire. Ricordo il motto, che non so se fosse su tutti i numeri o su un numero solo di Non Mollare, ma ci hanno tolto il diritto di parlare, ce lo prendiamo. Cioè, facciamo, non importa che la legge ci vieti, noi facciamo la stampa clandestina e domani faremo altre cose, ma non cederemo mai, non cederemo mai della gente che lascia che il fascismo vada avanti per la sua strada. A mio parere, Rosselli, anche la sua evoluzione successiva l'ha dimostrato, non era un socialista nel senso che noi diamo questa parola, era, appunto, come si è chiamato lui, se vogliava un liberale socialista, cioè in lui certe influenze inglesi erano molto forti, molto sentite, e lui pensava di fare un'iniezione di questo pensiero liberale del movimento socialista e aiutarlo a rinnovarsi. Io l'ho conosciuto poco dopo, pochissimo dopo, che lui era venuto da Genova a Milano e credo che questo accadesse all'inizio dell'anno accademico 25-26, perché venne come assistente di Einauli all'Università Bocconi, se ricordo bene, comunque venne in quel periodo a Milano e prese subito contatto con un ambiente socialista. Fu veramente molto amico di casa e subito interessato a partecipare alle riunioni che lui faceva per fondare questa rivista a Milano che sostituiva quella che avrebbe dovuto fondare, che voleva fondare a Firenze, già prima con Salvevini. Questa rivista si appoggiò soprattutto a Nenni come politico socialista, Nenni era anche nel partito massimalista, ma rappresentava l'ala che avrebbe voluto la riunione, la riunificazione con la Corrente Torattiana, con il partito unitario, come si chiama. Quindi si tennero diverse riunioni, ma mi pare quella decisiva, se ricordo bene, nello studio dell'avvocato Nino Levi e si recise la fondazione, mi pare, per il marzo, per il 1926, uscì questo settimanale, a cui io collaborai in un primo periodo molto attivamente, scrivendo articoli un po' bizzarri, letti oggi da me stesso, mi sembra un po' così, ma avevano un senso, era una polemica molto vivace contro il positivismo che aveva portato il socialismo italiano ad una condizione di stagnazione, di pensiero e in un certo senso di rassegnazione, si erano evoluzionisti, fatalisti, oggi le cose cambieranno da sé, Turati ci raccomandava sempre, io frequentavo anche Casa Turati, ci raccomandava sempre di non esporci, di lasciare che il temporale passasse, mentre noi eravamo giovani volevamo lottare, e in questa nostra volontà di attività, da un lato Nenni, che era anche lui certamente, uno mi ricordo aver sentito per la prima volta da lui, il giudizio, un rivoluzionario, non è mai sconfitto se non vuole, cioè è sconfitto quando decide di essere lui, quando si arrende, ma non si deve, deve sempre trovare qualcosa da fare, e Rosseri poi, che era l'attivismo personificato. Si dovete costruire il socialismo dall'alto, quasi senza una reale partecipazione di base, e questo purtroppo provocò come immediato fenomeno la burocratizzazione, cioè quando i canali sono soltanto in linea discendente, la democrazia scompare a poca a poca della burocrazia che si impone, che dall'alto dà le sue istruzioni. Quindi nasce quasi subito, ancora durante la vita di Lenin, nasce questo fenomeno del burocratismo, questo fenomeno dell'accentramento, questa dispersione degli elementi libertari all'interno della spinta rivoluzionaria. Io credo però che senza questo la rivoluzione non si sarebbe salvata. Credo che la scelta storica, ma è difficile dirlo, sarebbe stato o il fallimento della rivoluzione, oppure mantenere al potere il partito bolshevico, però ricorrendo a questi sistemi. Questo naturalmente dopo la morte di Lenin si è aggravato, la vittoria toccò a colui che era l'esponente delle tendenze più autoritarie, più centralistiche, più burocratizzanti, e che pensò di assidere il suo potere proprio sul fatto della non partecipazione delle masse. Organizzò il potere in modo che le masse non partecipassero, ma non avessero soltanto ubbidire. I politici hanno sempre la tentazione del tatticismo e dell'empirismo, cioè della soluzione immediata, liberarsi dalle grane del momento. Non si rendono conto che possono liberarsi dalle grane magari creandone di più gravi per il futuro, cioè non si rendono conto che le decisioni che prendono creano delle situazioni per il domani, in quanto il domani è compreso già alle sue radici nell'oggi, creano delle situazioni per il domani che possono essere più gravi e insolubili. la mancanza, non dico di cultura, sono tutte persone colte, ma la mancanza dell'uso della cultura, cioè della ricerca del contesto storico generale, storico sociale, economico, politico, in cui i problemi vanno inquadrati, il desiderio di uscire per la tangente, come si dice, di liberarsi, fa sì che i politici ricaccadano appunto sempre in questa tentazione diabolica, mai in quella contraria di utilizzare la cultura. Io ho fatto personalmente l'esperienza nella mia vita politica, credo di aver dato un certo contributo, di aver seminato in una certa misura delle idee che sono poi rivelate giuste, ma sono sempre stato messo in minoranza finché ho deciso di abbandonare la politica per la cultura. Senatore Basso, cos'è il Tribunale Russell? Il Tribunale Russell è un'istituzione che fu fondata dal filosofo e matematico inglese Bertrand Russell, premio Nobel della pace, nell'ottunno 1966. Gli convocò a Londra in quell'occasione 15 persone scelte nei vari paesi del mondo e mi fece l'onore di comprendermi fra quei 15. Egli incaricò di fare un'indagine sulla condotta di guerra americana nel Vietnam per vedere se nel comportamento americano ricorrevano gli estremi dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità secondo la definizione che era stata data dal Tribunale di Nuremberg istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale per giudicare i criminali nazisti. Noi ci riunimmo a Londra e ci demmo questo nome di Tribunale per i crimini di guerra americana nel Vietnam e tenemmo poi due sessioni pubbliche, una a Stoccolma della primavera e una a Copenaghen nell'ottunno del 67 in cui esaminammo l'esistenza di... se sussistevano o meno questi crimini per concludere che sussistevano tutte e tre le specie di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ma perché la denominazione Tribunale? Beh, fu oggetto di una discussione in seno proprio a questo gruppo nella Regnone di Londra dell'ottunno 66, c'era chi voleva chiamarlo Commissione d'inchiesta e c'era chi voleva chiamarlo Tribunale, furono in fondo le due denominazioni su cui si discusse. L'obiezione che si faceva alla denominazione Tribunale è che i tribunali sono istituzioni dello Stato munite dalla possibilità di fare eseguire le proprie sentenze per mezzo di gendarmi, mentre è chiaro che noi eravamo un'istituzione puramente privata e senza nessuna possibilità di fare eseguire i nostri giudicati. Tuttavia prevalse, e io fui fra quelli che la sostennero, la tesi di chiamarci Tribunale perché ritenemmo che si trattasse proprio di pronunciare un giudizio in nome di un'autorità che a nostro giudizio era superiore alle stesse autorità statali, cioè la coscienza morale del mondo. Ecco, noi, certo, in un certo senso ci autoinvestivamo di questo mandato che nessuno ci aveva dato di rappresentanti della coscienza morale del mondo, ma comunque volevamo far richiamo a questa coscienza morale, volevamo fondare sulla coscienza morale il nostro giudizio, tenendo presente che il diritto internazionale è un diritto in evoluzione e che secondo gli stessi trattati esistenti e secondo le dichiarazioni e i diritti dell'uomo la coscienza morale è anche una fonte di diritto. Quindi noi ci richiamiamo all'autorità che secondo noi è la massima fonte di diritto in questa materia e credendo, ci ponevamo come espressione di questa coscienza morale. In questo senso ci siamo dati in nome del Tribunale, affidando poi all'opinione pubblica internazionale, se vogliamo dire, alla coscienza morale dei popoli, di eseguire le nostre decisioni. Senatore, di cosa si occuperà la prossima sessione di Bruxelles del Tribunale Russell? La prossima sessione, che esisterà dall'11 al 18 gennaio a Bruxelles, si occuperà essenzialmente di un tema che ho già accennato, cioè soprattutto il ruolo che hanno avuto e che hanno tuttora in questa vicenda latinoamericana le grandi società multinazionali, perché quello che è emerso nella prima sessione è l'asservimento di questi governi militari alle multinazionali ed è il fatto che in generale questi colpi di Stato avvengono là dove c'è un governo che minaccia o che offende gli interessi delle multinazionali. Per il Cile è un esempio clamoroso, ci stanno quel ruolo che ha avuto l'ITT in particolare, ma anche la società del rame, l'Anaconda e la Kennecott, ma per altri stati meno conosciuti, ma nel Brasile per esempio c'è una grandissima attività delle multinazionali e abbiamo avuto delle dichiarazioni pubbliche, aperte di dirigenti di grandi società che hanno detto che il Brasile è il paese ideale per le multinazionali perché è un paese dove la classe operaia non può scioperare, dove i sindacati non possono discutere di salari, dove non ci sono elezioni libere e quindi non c'è pericolo di avere dei governi di sinistra e quindi dove noi possiamo investire tranquillamente i nostri capitali con la sicurezza che le condizioni sociali e economiche non muteranno fino a che noi ricaveremo tutti i profitti necessari. Questo è parso a noi nel corso della prima volta.